Un forte odore di gas ha messo in allarme alcune famiglie che vivono in via Manzoni ad Albignasego. L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo. Dalla strada proveniva un forte odore di gas. Immediatamente è stata allertata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Padova. Sul posto è arrivata una squadra specializzata che ha subito iniziato le operazioni per riparare una voragine che si era creata sull'asfalto e aveva coinvolto una condotta del gas. Via Manzoni è stata chiusa al traffico con le tranzenne. Fortunatamente non è una strada ad alto scorrimento quindi non si sono registrati i disagi e la viabilità. Le famiglie uscite in strada dopo i primi minuti di paura sono rientrate subito in casa una volta rientrato l'allarme.